Non sia la sensazione e la convinzione che questa malattia nei bambini piccoli non sia una malattia severa. Questo era forse vero nella prima fase, ma in questo momento qua, con questa variante, i numeri parlano chiaro. Questa è sostanzialmente la ragione per cui i bambini tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati contro il Covid solo al 30%, contro l'80% di copertura vaccinale degli adolescenti. I dati sono della pediatria di Treviso, in cui in reparto sono stati ricoverati nelle ultime due settimane 16 bambini arrivati in pronto soccorso con febbre molto alta. Febbre che può durare anche a lungo, assieme alla febbre poi, questo soprattutto nel bambino più piccolo, assieme alla febbre poi c'è la rinite, ci può essere la tosse, la stanchezza, l'astenia, questi sono i sintomi principali. 16 ricoveri in due settimane contro i 12 delle prime due ondate potrebbe essere l'effetto Omicron, la variante che non risparmia i bambini. I ricoverati sono bambini fino agli 11 anni, la vaccinazione dunque sta proteggendo, lo dicono i dati, la fascia 12-18. A questi numeri vanno aggiunti altri 16 ricoveri, bambini cui è stata diagnosticata la sindrome infiammatoria multisistemica, MISC, che insorge dopo il contagio. Non sono bambini covid positivi, ma sono bambini che hanno una patologia legata all'infezione da covid pregressa e tre di questi casi li abbiamo avuto nell'ultimo mese. Dati che sommati assieme non possono fare altro che spingere le famiglie verso la vaccinazione dei loro bambini. Un tassello in più che, aggiunto al mosaico del sistema di contenimento della pandemia, potrebbe contribuire ad allentare le regole, come già chiesto dalle regioni, soprattutto in tema di DAD e quarantene. Perché non dovremmo difendere i nostri bambini, la ricchezza della nostra società? Non dimentichiamoci di questo. E anche per la loro socializzazione, una volta sociale più serena.